Il nastro, già vuole il compito di Revanovec che scatta Splendido dritto, anomalo a chiudere da Revanovec Diverso dal punto di vista tecnico e tattico Grande risposta da Revanovec, di puro istinto Para Revanovec, questo è un errore però banale della Herzog Il nastro, caccia indietro il dritto in avanzamento Revanovec C'è il primo break del mezzo Scentra completamente la seconda Di nuovo Il primo passante non è vincente ma Va intuito l'intenzione di Revanovec Dritto in contropiede splendido, si carica Revanovec 40-30, parla del 3-2 Palla corta, ben fintata anche dalla Herzog Bellissimo, rovescio lungo linea Bellissimo, dritto Giocato due metri fuori dal campo Riesce a impattare Grazie a tutti Grazie a tutti Scambio durissimo che alla fine porta a casa la Herzog Sulle gambe Revanovec Sulle gambe Revanovec Grandissimo, dritto lungo linea Fantastico, colpo fantastico di Revanovec Lo ha risposto a tutto bravo Tre set point consecutivi Fa più un punto al servizio da Herzog Impressionante Si ferma in rete il rovescio della Herzog A zero anche questo turno di battuta perso dalla tenista slovena E allora è 6-2 Ivanovic Primo set Quattro vincenti Quindici errori Herzog 9-11 Ivanovic Quindi saldo di meno Un quadrato Allora è la Herzog in questo momento 40-15 E 30-0 Bel attacco in back Ma ancora più bello il passante Incrociato stretto Questa volta copre bene la rete Herzog Bella volè Servizio e dritto 15-0 Soltanto larga Brava ad attendere il movimento dell'avversario E a colpire in conto Rimane in calco Colpo steccato da Levanovec Sua riga Herzog Il passante in campo da Levanovec 4-1 Mezza riga Mezza riga Alla fine Levan Herzog esce fuori Da un suo scambio complicatissimo Il quale Ivanovic ha colpito Grande risposta Poi chiude comodamente con il dritto So Ace al centro Palla corta Vincente 0-40 Imprendibile il dritto Incrociato da Levanovec Che torna Grande risposta di dritto Su una seconda Che era tra l'altro Sulla riga Grande dritto in corsa Per la Herzog Che quando sembra morta Tra virgolette Ci arriva Levanovec Chiude lo smash 40-15 Si ferma in rete La risposta di dritto Di Polona Herzog E allora Levanovec Si impone 6-2 6-3 Sulla tenista slovena E si qualifica Per i quarti di finale Rogers Cup 2015 Dove affronterà Belinda Bencic Super spot Scrutare Caliborio Quinton Sulla tenista Negri Lui Sulla tenista Bocas Czechos Sulla tenista Sulla tenista Grazie a tutti